Fino a conclusione dello stato di emergenza per il covid, il succorso Mazzini, la via principale del centro storico di Catanzaro, non potrà svolgersi alcun tipo di manifestazione e quanto è stato stabilito dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi sotto la presidenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta. Il provvedimento è stato adottato sulla base della direttiva diramata dal Ministro dell'Interno, che dà il compito ai prefetti di individuare con apposite direttive e d'intesa con i sindaci aree urbane sensibili di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità, che possono essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza. Questo è applicabile anche nel territorio provinciale. Nell'eventualità, possano verificarsi manifestazioni di protesta e di contestazione contro le misure sanitarie di contenimento adottate dal Governo, in analogia con quanto si sta verificando sull'intero territorio nazionale.